L'hanno chiamata Operazione Sottovuoto. Questo il nome di una vasta indagine di contrasto allo spaccio di droga orchestrata dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Pesaro e diretta dalla locale Procura della Repubblica che all'alba di sabato ha portato alla perquisizione domiciliare di 7 persone e all'arresto di un pluri pregiudicato 36enne siciliano residente a Pesaro. L'uomo è ritenuto il criminale di maggior spicco di una fitta rete di smercio di sostanze che nel giugno scorso ha avuto una svolta con la scoperta da parte dei carabinieri di un covo a disposizione dei trafficanti di stupefacenti. Una base a Villa Fastigi intestata a un insospettabile incensurato nella quale vennero recuperati 1,2 kg di cocaina e arrestate tre persone. Con il blitz di sabato i carabinieri confidano di aver stroncato un importante canale di approvvigionamento di droga nel territorio in 7 mesi che hanno portato a 10 arresti, 16 denunce e un chilo e mezzo di cocaina sequestrata.